E' la voglia di cambiare la realtà che mi fa sentire ancora vivo e cercherò tutti quelli come me che hanno ancora un sogno in più dentro un libro che nessuno ha scritto mai leggo le istruzioni della vita anche se so che poi non la seguirò farò ciò che sento oltre le distanze noi non siamo soli figli della stessa umanità